Ritardi e omissioni per il nuovo ospedale di Andria, ma anche delibera mai approdati in consiglio comunale per la realizzazione di un grande supermercato della Lidl, sicurezza, delibera per un debito fuori bilancio con le scuole paritarie e ancora poca rotazione degli incarichi dei professionisti, asilo unido mai riaperto in preda al degrado e bilancio estate andriese. Questi e diversi altri temi sono stati sollevati questa mattina da una parte delle opposizioni a Palazzo di Città in una conferenza stampa in cui le minoranze hanno chiesto soprattutto rispetto del ruolo del consiglio comunale. Il filo rosso conduttore di tutti questi provvedimenti è quello di aprire la città al confronto al dialogo, non deve essere vista l'opposizione o la critica come un qualcosa di offensivo o di un disturbo che viene recato. Quindi rotazione degli incarichi per consentire a tutti i tecnici di sentirsi coinvolti in questa città e di ascoltare prima quali sono le scelte che si vanno magari ad operare. Poi, ripeto, abbiamo sentito di una delibera che poi abbiamo anche nel suo contenuto visionato che prevedeva addirittura la corresponsione di una somma pari a 200 mila euro per la realizzazione di un'opera pubblica. Ora, in questo periodo di vacche magre, i 200 mila euro credo che dovevano essere presi in considerazione e dovevano essere utilizzati per un'opera pubblica. Quindi noi chiediamo all'amministrazione di cominciare ad essere più efficiente. Ci sono assessorati che la cui azione non viene percepita, non me ne vogliono gli assessori perché non è a loro la critica. La critica è a chi non è messo in condizione di operare. Fratelli d'Italia, Lega, Iosud, Liberali e Riformisti e il Partito di Azione hanno respinto al mittente le accuse mosse dalla maggioranza rispetto alla situazione di riequilibrio del bilancio a cui è sottoposto lente, considerato anche i quattro anni di amministrazione di Giovanna Bruno. Ma un tema cardine al centro della discussione di questi giorni è sicuramente quello relativo al nuovo ospedale di Andrea. La delibera regionale di riordino della rete ospedaliera ha infatti messo un grosso allarme tutta la comunità, con una riduzione dei posti letto previsti per il nascente nosocomio andriese, ma soprattutto ci sono tre anni di ritardi da quel luglio 2021 in cui il progetto fu presentato a Castel del Monte. Noi attendiamo questo famoso ospedale di secondo livello con 400 posti letto da diversi anni, da diverso tempo. Non dimentichiamo ciò che è successo a luglio del 2021, grandissima festa al castello, il governatore che annuncia la costruzione del nuovo ospedale, passano tre anni e non si dice ancora niente. Fulmina Celsereno nel luglio scorso arriva una proposta di delibera del Consiglio regionale sul riordino ospedaliero, nel quale praticamente si parla di una riduzione dei posti letto. Cosa ha risposto il direttore del Dipartimento alle vostre sollecitazioni che già sono arrivate? In questa nota si dice guardate che non avete letto bene, non è chiaro, non avete interpretato bene quella che è la nostra dicitura e che comunque sono praticamente assicurati 400 posti letto. Non ci basta una nota, noi vogliamo una delibera.